come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità molto bene vediamo un attimino le date di pagamento allora noi sappiamo che rdc viene pagato o il 15 o al 27 del mese e siccome questo mese il 15 cade di domenica per logica vengono spostati al giorno dopo quindi al 16 se fosse stato al 15 fosse stato di sabato allora anticipavano di un giorno allora qui c'è ultimamente c'è la corsa a chi la spara più lunga allora c'è leggevo vari post siti internet che dicono che il pagamento addirittura viene fatto il 13 allora attualmente io non sono così sicuro che venga fatto al 13 quindi perché in realtà le lavorazioni dovrebbero partire già dall 11 e siccome il 15 e di domenica per visto visto il passato visto come succedeva nel passato veniva spostato tutto al giorno dopo comunque facciamo così siccome che qua siamo tutti un po così no e poi succede come il mese scorso che alla fine tra l'ins tra le poste tra che ne so io cosa è successo hanno fatto un gran casino facciamo così intanto io vi dico per me rimane al 16 lunedì 16 se poi eventualmente ci fossero già le lavorazioni a partire dall 11 o il 12 e quindi un pagamento al 13 mi sembra un po strano però potrebbe capitare allora vi terrò aggiornati vi farò un nuovo video aggiornamento nel frattempo per non perderci un po di vista non fare troppo casino ricordatevi di iscrivervi alla chat che ho aperto solo per voi che siete iscritti al mio canale di youtube e questa chat la trovate su telegram quindi andate su telegram cliccate sulla lente di ingrandimento e cercate luigi youtube tutto attaccato entrate dentro vi iscrivete confermate ok e lì ci teniamo aggiornati tramite quella chat comunque come vi ripeto quando avrò maggiori informazioni sulla data effettiva di rdc vi terrò aggiornati poi per altre informazioni ci vediamo anche su telegram a presto ciao